La domanda è semplice. La carne determina un innalzamento dell'insulina? Beh, ho fatto un sondaggio e come potete vedere il 50% delle persone hanno risposto no, magari pensando che la carne non contiene zucchero e effettivamente è lo zucchero a determinare un aumento della glicemia nel sangue che determina a sua volta un aumento dell'insulina. Pensate che l'insulina è quell'ormone che tra le sue funzioni principali obbliga il glucosio, gli zuccheri, a entrare velocemente nelle cellule. Per apertura di determinate porte, queste porte poi si chiamano glut, ma immaginate quindi l'insulina come le chiavi delle porte per il glucosio. E il 50% delle persone invece hanno risposto in maniera affermativa, hanno detto sì, anche la carne determina un aumento dell'insulina e questo è corretto, ma non per la presenza di zuccheri che è assente all'interno della carne, ma per la presenza di grassi saturi. Sono i grassi della carne, i grassi della carne non sono buoni, non fanno bene alla nostra salute e questo è collegato all'aumento dell'insulina perché quando introduciamo grassi saturi il fegato vorrebbe liberarsene quanto più velocemente possibile. Per farlo cosa fa? Va ad inviare un segnale alle porte, quindi alle queste glute, di chiudersi. Quindi immaginate che il fegato, che va ad amministrare un pochino il nostro metabolismo generale, va a mettere un lucchetto aggiuntivo a queste porte. A questo punto l'insulina, nel momento in cui arriverà alla porta dello zucchero, troverà oltre alla sua serratura, per la quale ha la chiave, un altro lucchetto aggiuntivo, per la quale non ha la chiave. Ed ecco qui che nel momento in cui noi introduciamo anche piccole quote di zuccheri, si ha l'inizio dell'insulino resistenza, ovvero l'insulina non sarà più in grado di andare a far entrare il glucosio all'interno delle cellule. E allora si innesca indirettamente un meccanismo per il quale, mangiando carne, mangiando grassi saturi, ma anche i grassi insaturi trasgenici, che troviamo ad esempio nel cornetto vegano, mi porta ad avere un aumento dell'insulina e quindi un aumento del sovrappeso. E allora l'idea è quella di fare attenzione, molta attenzione alla carne. E poi se andiamo a guardarci le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci sconsiglia un utilizzo quotidiano di carne. Chi mangia carne ha più pancia, ha grasso localizzato. E ricorda che il grasso localizzato a livello dell'addome si va a ripercuotere su un grasso dentro e fuori dagli organi. E allora se il fegato è grasso, noi abbiamo un'insulina alta e quindi tendiamo ad ingrassare. Io vi ringrazio per l'attenzione, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi. al canale attivando la campanellina. Ciao!